La Nucetelli parla della sua sessuali dopo la messa in onda della puntata di Porta a Porta dedicata a italiani e sesso. Cosa cambia? Sono giunte tantissime critiche alle ospiti Asia Nucetelli e Antonella Mosetti, figlia e mamma che hanno espresso il loro punto di vista a Bruno Vespa. Le due donne sono state criticate soprattutto per il modo in cui erano vestite e truccate ed anche per l'inversione dei ruoli, sottolineata dalle confessioni intime della ex Lolita di non la Rai e di sua figlia. Antonella Mosetti, nuovo fidanzato presentato dalla figlia, Leggi parlando con i suoi ospiti della sessualità al giorno. D'oggi, da Bruno Vespa Antonella e Asia hanno raccontato di vivere l'amore in maniera totalmente differente. Al contrario della madre, infatti, Asia ha dichiarato di essere estremamente pudica. Mi reputo una ventunenne molto pudica dal punto di vista sessuale. Ho avuto un unico rapporto. E' stato con il mio fidanzato in casa. Di famiglia, con cui sono stata parecchi anni. Avevo quasi diciotto anni. Un mese dopo ne avrei fatti diciotto. Sicuramente era presto. Per sono stata con questo ragazzo. Stato il mio primo amore. La mia prima storia. Ci sono stata due anni. Antonella Mosetti. Difende la figlia a Domenica Live. Leggi e ogni caso gli internauti non ha apprezzato l'ospitata. Su Rai 1 di madre e figlia. Considerate, trash. Tra i commenti pi crudi. Il trucco sarà anche poco. Ma dopo tutta quella plastica e ciglia finte non avrebbe senso truccarsi. Ma ci, anche chi difende. Madre e figlia per il forte accanimento verso madre e figlia. Certo, le due starlette della tv Asia Nuccetelli e Antonella Mosetti non erano proprio semplici. Inoltre i primi spoiler sono arrivati proprio da Antonella Mosetti che ha postato una serie di foto con la figlia in posa nello studio di Porta a Porta. Mostrando tutti i ritocchi di chirurgia estetica. Marco Predolin. Dopo la squalifica vuole rientrare nella casa del grande fratello. Leggi la maggior parte delle critiche sono giunte proprio per il loro aspetto sempre più appariscente e per i loro ritocchi. sempre più evidenti, con labbra gonfie e vestite in modo troppo appariscente. Non consone ad una trasmissione come Porta a Porta. Roberta Mazzacan e altro su MSN. Il cambiamento estetico di Asia Nuccetelli. Mediaset, riproduci nuovamente video, IMPOSTAZION e NON attivo. HDHQSDLO